con i fazzoletti e poi partono le macchine pensavo tre, quattro, cinque, lo sperimento è via del gran premio pensavo tipo la morra sarda tre, cinque, pitanciù, cinque, otto dodici, ma se stavendo mai tipo quella di una settimana da dio, la mano con le sette dita buonasera a tutti, bentornati sul Calcio Club in questo appuntamento fra un Sanremo e l'altro perché c'è stato il Sanremo prima che c'era la puntata con Nicolò con Alice che ne hanno parlato un'analisi tecnico-tattica Sara cosa stai facendo? cosa stai facendo? Io mi lo chiedo Sara Bodini Real è in regia, signore e signori buonasera the one and only buonasera, non riesco a fare una cosa importante tipo far partire sei pronta a questa pausa, finalmente una sana pausa dal Sanremo per parlare di calcio? di solito è il contrario, c'è una pausa dal calcio per parlare di altro no, no, perché parliamo sempre di Milan che perde cioè ormai sta per eh, vabbè perderà continuamente ti voglio vedere di Napoli che batterà la Cremonese ma perché Milan ha perso settimana scorsa? no, no ha perso cos'è successo lo scorso weekend? non ha giocato non ha davvero giocato contro l'Inter, scusate non ha giocato ah, proprio sfotti anche così no, mi ero per un secondo dimenticata ma anch'io guarda per un attimo me l'ho dimenticato però come Kiers è dimenticato ho una cosa da dirvi in merito alla scorsa puntata di Calcio Club ci è avvenuto un momento gossip tra la tipa di Povega Davide Calabria che succede negli spogliatoi ma Davide Calabria l'altro giorno ha deciso di smentire queste voci date da Federico Bollani non da me ha causato questo polverone ha causato questo polverone nello spogliatoio e ha detto che no sì non è vero vero però tra l'altro l'ha condivise anche il mio il nostro amico Giacomo Todisco su suo profilo Instagram diventato un gossiparo è diventato un gossiparo dove diceva smettete di dire cose senza sapere gli ho detto sì vero hai ragione però è anche vero che non poteva non smentire una roba del genere in un momento del genere dove il Milan sta continuando a perdere ci sono mille difficoltà tantissimi giocatori non stanno rendendo non stanno proprio entrando in campo anzi l'ho detto è quasi arrivata tardi la smentita di Calabria appena girava doveva dire no non è vero siamo tutti concentrati sullo stesso obiettivo forse è arrivata più per convenienza è giusto che abbia smentito però non sapremo mai cioè mi viene da dire non sapremo mai la verità io vorrei sapere se è ancora single cioè se è ancora finanzato Davide Calabria perché nel caso fosse single io lo seguo su Instagram e su questa meravigliosa perla io direi che sarà è arrivato il momento di iniziare ufficialmente Calcio Club Calcio Club Mari di Guai la puntata di oggi che non sarà gossipara anche perché di gossip soprattutto star remese ne abbiamo avuto abbastanza in questi giorni e lo faremo inizieremo la puntata con la nostra meravigliosa sigla something was wrong sono antipatico perché vinco non è un problema uomini forti destini forti uomini deboli destini deboli non c'è altro strato Fede io logicamente non possiamo non parlare del mare di guai citando appunto Sanremo citando Ariete che c'è stato settimana scorsa questi guai che continuano per i rossoneri quindi ho deciso di smorzare un po' l'attenzione ti ho portato un regalo un pensierino poi fai quello che vuoi no sì ci tenevo anche Sara se vuoi lo porto anche te questo è un regalino diciamo per perché secondo me è una cosa che ti potrebbe far bene questo regalino ti chiedo gentilmente di chiudere gli occhi ok è un bel regalo sono sicuro ti piace io tanto sarà qualcosa sull'autaro o sull'unazera no no una pera se vuoi guarda faccio l'altro così no dai va che bello non scherziamo nemmeno è stato un gesto veramente cattivo mamma mia ma che brutto ora possiamo iniziare la puntata io sono come il bambino di Sanremo forza Milan sempre nonostante tutte le relazioni nonostante tutto eh nonostante tutto però c'è quel tutto lì eh di cui dobbiamo parlare però c'è quel tutto eh ti piace questa sciarpa è quella con cui vado sempre allo stadio bellissima guarda c'è anche la croce di Milano perché dopo tutto Milano siamo noi quindi dai che io lo so io lo so perfettamente che questa cosa mi si ritorcerà contro spero il prima possibile però eh devo dire che è una piccola vendetta rispetto alla alla tua maglia di Leao in occasione della scudetta tutto torna due in un mese due in un mese ci sta si deve un po' festeggiare prego dichiare è un piacere ti dirò la verità sai perché perché non sento più più Alice on Fire e questo è mi non lo vedi che sono così sereno l'avevi vissuta proprio male diciamo che non è che mi avete aiutato a viverla bene mettiamola così ma sì è gugliardia sportiva perché così rimane parliamo del mare di guai del Milan un mare di guai che potrebbe essere risolto dai brainwitch si dice quando torna in campo non si sa dovrebbe ritornare fra i convocati dovrebbe essere convocato eh sì quando torna in campo fa sempre gol quella è una certezza ma secondo me a prescindere da quello è proprio la c'è la sua attitudine durante la settimana sì certo e anche semplicemente ho sentito l'intervista che ha rilasciato a Sport Media faccia tutto lo spaccone che è nel suo personaggio sono ancora Dio e tutte cose che vabbè probabilmente non sono vere per uno di 41 anni che fermo da 9 mesi però anche c'è inconsciamente l'avversario quando vede Ibrahimovic entrare in campo sta più attento cioè non gli lascia lo spazio che magari potrebbe lasciare a a un altro tipo di giocatore a Ibrahimovic non lo lascia e non è un caso secondo me che anche alla fine dell'anno scorso le poche partite in cui Ibrahimovic è entrato sono poi partite che Milano ha vinto sempre all'ultimo perché è entrato con la Fiorentina solo 0-0 e le ha osegni all'81 su una cappella di Terracciano chi lo sa magari influenzato dal fatto che c'era Ibrahimovic lì vicino perché era lì in zona e influenzato dal fatto che l'andata avesse sbagliato il passaggio contro la Lazio chi c'è in campo quando segna il gol di Terrali chi fa l'assistatonale Ibrahimovic comunque si vede si vede che non è più compatta si vede che sono 11 giocatori singoli messi insieme non sono più una squadra come è stata l'anno scorso e come il Milan negli ultimi anni ha costruito i suoi momenti positivi io sono abbastanza fiducioso per il ritorno di Ibrahimovic vediamo a prescindere dalle sue performance in campo è sicuramente anche un centralizzatore di attenzione e questo non può che essere positivo secondo me per il Milan perché se in questo momento le attenzioni non sono più sulle difficoltà della rosa sotto aspetti mentali e tecnico-tattici il fatto che le attenzioni adesso siano sul ritorno di Ibra sulla Ibra come rientra rientra bene rientra male sbaglia rientro segna rientro queste attenzioni su di lui secondo me alleggeriranno molto il peso sugli altri giocatori in campo e questo è quello che secondo me serve un po' più di leggerezza di pensiero che ti permette anche di fare giocate più serene partite più serene meno condizionato appunto dalla possibilità continua di fare l'errore di errori vorrei parlare in riferimento al derby perché abbiamo tanto criticato Tatarusano però Tatarusano credo sia stato il miglior in campo non notata non notata non notata non notata il problema sappiamo tutti che non sia a livello del titolare questo l'abbiamo detto mille volte è inutile ripetere ha quella parata la singola parata buona il problema è che poi a volte si perde in dei gol stupidi da prendere poi ovvio non è mai sempre colpa di una sola persona tanta colpa è del portiere perché deve dare anche sicurezza al reparto cosa che Tatarusano non fa però non è il caso del derby secondo me non è il caso del derby però secondo me è anche emblematica la foto di sei giocatori del Milan che si arrabbiano con lui perché all'ottantesimo all'ottantesimo cioè nonostante una partita c'è in un periodo del genere un portiere fa una partita una prestazione così non mi aspetto che tutto va bene dai va bene va bene tutti a insultarlo questo vuol dire che veramente non dà la sicurezza di giocare tranquillo e non c'è fiducia non c'è fiducia nei suoi confronti e neanche rispetto del ruolo perché un portiere che ha una certa leadership una certa personalità non arriva al punto che all'ottantesimo dopo aver fatto la partita che ha fatto dopo aver fatto le parate allucinanti perché la parata la prima parata sull'autore è una parata di stinto bellissima dopo una partita del genere all'ottantesimo ti fai permetti che sei cioè metà squadra su una mancata uscita non necessariamente così grave ma su una mancata uscita si incazzi così tanto con te è normale questa cosa qua no vuol dire che non hai personalità e che non sei riuscito a crearti una credibilità nello spogliatoio ci sono state due scene assurde per l'età delle due persone che lo fanno Gabbia prima del primo gol si arrabbia con Tataruzano cioè Gabbia che ha 20 anni ha giocato 20 partite da professionista si arrabbia con Tataruzano che di anni ne ha 36 ha fatto il titolare per anni o poi quando sul gol di Lukaku annullato Ciao si lamenta con Tataruzano e fa esci perché non esci ciao che ne ha fatte 10 di partite nei professionisti si lamenta con il suo portiere perché perché vede i compagni che lo fanno e quindi si sente autorizzato a fare la stessa cosa però è anche vero che un portiere diverso con un'altra personalità magari sarebbe uscito magari che ne so non dico che lo deve prendere a sberle in mondo visione però lì risponde cioè alla seconda volta che uno ti risponde fai anche cioè sei anche un po' più cauto nel prendertela con uno a Mignan non li avrebbero mai fatto perché Mignan se li sarebbe mangiati secondo me cioè perché Mignan è il classico cioè derby d'andata la fotografia sulla parata di Luciana Noglu appena si rialza Mignan fa sta dormendo senza urlare senza sbraitare si rivolge alla sua difesa così questa è la personalità anche questa è Mignan Mignan che sta ancora cercando di recuperare energia anche lui è un'assenza che pesa perché è stato fondamentale l'anno scorso è stato fondamentale quest'anno fin quando c'era perché nel derby ha fatto le parate che ha fatto col Sassuolo all'andata ha parato in rigore Berardi sono punti però 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 tornando alla partita di domenica scorsa vabbè c'è stato un classico sfottopost partita fra me e lui però io ho detto una cosa secondo me è vera tu ti sei dichiarato in disaccordo secondo me non sarebbe stato così scandaloso se il primo tempo fosse finito 4 a 0 cioè onestamente per le occasioni che abbiamo avuto per la predominanza che abbiamo avuto nel corso del primo tempo poi il secondo tempo è stata un'altra partita proprio perché non si è chiusa la partita nel primo tempo e quindi rimanendo aperta la partita gli equilibri si sono cambiati il Milan si è messo anche meglio in campo secondo me perché quando tu parti con un 3-5-2 un 3-4-1-2 quello che era però non piazzi nessuno davanti a Cialanoglu è normale che Cialanoglu fa quello che vuole ma a prescindere dai numeri che poi vabbè cambiano sempre non sono fissi tu hai impostato una partita su difesa e contropiede e hai tenuto fuori il tuo miglior contropiedista esatto e uno dei giocatori tra quelli che hai migliori nella conduzione e palla al piede brain viaz tant'è che entrati loro vuoi perché sono entrati dopo vuoi perché la partita era ancora aperta vuoi perché l'Inter aveva attaccato tanto e si era stancata la partita si è equilibrata ma non ci vuole un genio cioè io adesso il discorso è se l'han capito tutti perché non l'ha capito Pioli ma anche lo staff tecnico cioè non è solo Pioli c'è tutto sì sì certo ma tu hai preparato una partita una settimana sta partita impostandola così ma non ti sei accorto che se vuoi far contropiedi forse è meglio avere Leao e Brian Diaz rispetto a Messias e Orighi cioè avevi Orighi e Giroud che fanno lo stesso lavoro e a cosa mi servono cioè loro possono fare le sponde ma se non c'è nessuno che li va incontro ma chi le fanno queste sponde certo assolutamente ma poi anche vuoi metterti a specchio con l'Inter mettiti effettivamente a specchio non mettiti un po' a specchio perché Brian Diaz ti fa da da filtro e ti nasconde un sacco il gioco a Cialanogu se tu non metti nessuno su Cialanogu quindi non metti un trequartista è normale Cialanogu è libero Cialanogu prima Brozovic poi cioè che sono liberi di fare quello che vogliono e di impostare come vogliono infatti il primo tempo l'Inter aveva un baricentro che era praticamente a metà campo se non oltre a metà campo è un po' stesso palla del 70% perché? perché il Milan non riusciva a tenere palla non riusciva a tenere palla e non riusciva a ripartire in contropiede perché come dici te non aveva i contropiedi a un certo punto mi è saltato lo streaming io sono andato sulla televisione inglese o americana comunque c'era il commento in inglese ho visto l'ultima parte del primo tempo in inglese e il commentatore l'ha detto e queste parole mi sono rimaste impresse ha detto veramente il Milan sembra avere paura della palla e sembra che voglia liberarsene il prima possibile questa è una roba assurda l'ha detto in diretta e c'ha ragione cioè una squadra come il Milan giocava come se io, te e altri nove giocassimo contro l'Inter quindi tutti a difesa della porta e appena c'è me la palla spalla su sperando che Giroud o Righi sperando che i tre difensori di l'Inter abbiano un malore e Giroud possa andare da solo davanti alla porta perché neanche Giroud in contropiede può essere produttivo cioè io questa cosa non l'ho capita tant'è che io pensavo speravo fosse pretattica quella di dire ah no 3-5-2 con Messias intermedio dico ah vabbè che simpatico che simpaticone che sei e l'ho visto veramente e ho detto ah bene e io mi ricollego a quanto ho detto ormai nell'ultime tre settimane di puntata secondo me in questo momento perlomeno Pioli non ha in mano la squadra a livello mentale ci sta capendo poco ma proprio a livello di gestione del gruppo anche per il discorso che abbiamo detto prima di Tatarusano perché se tu permetti che sei dei tuoi giocatori si tolgono in un certo senso le colpe perché pensano che siano tutte di Tatarusano perché se tu ti lamenti del fatto che il portiere non esce e rischi di prendere gol per questa cosa qua ma tu non marchi l'attaccante perché comunque Lautaro è andato vicino al gol molte volte e non l'ha preso per Tatarusano ma lo stava Milan lo stava per prendere per colpa di una prestazione terribile a livello difensivo di un difessore ad esempio come Kier che secondo me è davvero impressionante il calo che ha avuto anche i posti infortunio non lo so però è davvero soprattutto quello secondo me eh lo so però no sono d'accordo se vedi in allenamento che non è in grado allora investi sul mercato per un giocatore in quel ruolo e torniamo sempre là io non caspita ho avuto una settimana di tempo per preparare questa partita ok va bene le alternative sono quello che sono ma ad esempio quando è entrato Ciao ha fatto peggio di gabbia no caspita ma fallo giocare prima ma qual è il problema cioè che paura c'hai tanto non voglio dire peggio di così non può andare perché può andare sicuramente poteva andare potrebbe piovere potrebbe piovere e ti ho detto la mia paura più grande qual era venerdì era quella di prendere un'imbarcata colossale che non dico a livello del 6-0 del 2001 ma quasi però caspita osa qualcosa di più vuoi giocare in contropiede va bene però devi essere è come se volesse cambiare qualcosa ma non volesse cambiare del tutto vuoi veramente cambiare modulo cambia modulo però metti le persone adatte per giocare questo modulo vuoi giocare con la difesa 3 Kier è andato via dall'Atalanta perché non sa farlo giocare a 3 metti un'altra persona vuoi comunque una persona di esperienza metti Kier non metter gabbia perché a queste partite non è pronto prova un altro giocatore tanto cos'hai da perdere hai perdi che magari prendi l'imbarcata ma tanto secondo me è stato molto più umiliante il primo tempo che ha giocato in Milan rispetto a perdere un derby 4-5-0 cioè io l'ultimo derby che mi grande imbarcata il 4-0 del 2009-2010 di agosto io mi ricordo che comunque era stata una partita dove Milano aveva giocato aveva almeno provato a giocare a calcio sì sì fino a quando era in 11 contro 11 domenica il primo tiro in porta o comunque nello specchio è arrivato a 74 ma neanche cioè forse il colpo di testa di Giroud alto per quello ti dicono specchio da porta nel senso proiezione della porta sì anche forse quello di Berendiezza era a 76 al 74 74 cioè tu per 74 minuti non sei arrivato in area dell'Inter ma stiamo scherzando nel derby nel derby e sei il Milan che a netto di tutto è quarto in classifica cioè non è che dici quest'anno lottiamo per non retrocedere va bene è così è quello che non mi capacita però se l'ho detto secondo me in questo momento Pioli non ha il gruppo a livello mentale ma anche a livello tecnico-tattico a se la squadra ha paura in campo perché appunto secondo me Pioli sta avendo paura con le sue scelte la scelta di mettere Messias e non Brian Diaz è una scelta della serie io scelgo quello che mi dà più sicurezza che mi dà più equilibrio che mi dà così ma non è vero ma dove lo vedi io non lo vedo lui a quanto pare io non mi capacito di questa cosa ma dove lo vedi cioè io ogni volta poi vabbè magari c'ho la fissa e quando gioca Messia c'ho paura cioè c'ho paura hai paura del Messia sì ho paura del Messia perché a livello offensivo non sai cosa aspettarti molte volte rimani deluso tant'è che Milan voleva andare su Zaniolo che forte e tutto ha fatto due gol negli ultimi venti mesi per sostituire tra l'altro poi interessante le parole di Tiago Pinto magari dopo le leggiamo e cioè in difesa non torna mai mai cioè se vuoi mettere se vuoi veramente mettere equilibrio a quel punto metti Salema Kers a quel punto sì effettivamente non ho capito se vuoi coprirti del tutto vuoi coprirti del tutto sai che Salema Kers in fase difensiva ti dà molto di più rispetto alla fase offensiva te rinuncia ad attaccare dici va bene metti Salema Kers però non mettere Messias e boh non lo so io credo che poi io alla fine l'Inter sta meditato perché è stato un no contest nel primo tempo certo poi è netto di tutto infatti un po' meglio ma comunque l'Inter ha creato di più e vanno fatti i complimenti vanno fatti i complimenti ai ragazzi come direbbe come direbbe Inzaghi però sicuramente guarda intanto Alice fa la foto qua mi metto in posa aspetta che si deve vedere bene qua oh va che bello oh là grazie Alice però la nostra fotografa ufficiale di calcio i demeriti del Milan sono sono tanti sì però bisogna appunto come dicevi dare anche i meriti all'Inter che secondo me ha fatto una partita eccezionale ed è sempre più in forma cioè in questo momento l'Inter e sono contento anche del fatto che sto vedendo perlomeno e mi auguro che continui a rimanere in forma e sta entrando sempre più in forma in un momento cruciale della stagione perché adesso ci sono gli ottavi di Champions poi arriveranno le semifinali di Coppa Italia c'è un posto in Champions da consolidare ci sono tanti rimpianti sicuramente per un campionato che appare ormai chiuso però sicuramente sai c'è il rimpianto perché dici chissà cosa sarebbe successo se l'Inter non avesse avuto quell'inizio che ha avuto se avesse avuto Lukaku tutta la stagione perché comunque Lukaku che è entrato nel derby ma sicuramente a parte l'inizio se avesse perso 5 punti tra Monza e Certo sarebbe già più vicino al Napoli quindi metterebbe un tipo di pressione diversa ai partenopei che invece ora navigano nel loro furore visto che abbiamo fatto le citazioni di Sanremesi però diciamo che quest'Inter qua in Champions io te l'ho detto sia Inter che Milan perché anche il Milan ancora adesso è contro un Tottenham che è sì terzo in Premier League quarto in Premier League però è un Tottenham che è fatto fa di tanti esatto alti e bassi alti e bassi e sappiamo tutti poi Conte e l'Europa il rapporto non idilliaco che hanno e credo che il Milan abbia comunque buone possibilità perché potrebbe trovare degli stimoli nuovi diversi proprio nella Champions League come fece l'Inter anche all'inizio del campionato quando aveva difficoltà in campionato e poi andò a Barcellona contro Barcellona vinse a San Siro e andò lì e fece quella partita là credo che appunto mi auguro che anche il Milan riesca a ritrovare perlomeno alcuni dei suoi uomini adesso non so Tomori quanto starà fuori sia Tomori che Benassero dovrebbero rientrare poi in teoria anche Mignan dovrebbe però è la grande incognita un po' di tutti diciamo che c'è la Champions da giocare l'Inter sta tornando in forma l'Inter sta recuperando Lukaku Lukaku è entrato nel derby è un ottimo Lukaku secondo me manca solo il gol però la forma sta tornando quella di un tempo perché effettivamente anche contro l'Atalanta in Coppa Italia ha giocato molto molto bene e anche lo stesso Brozovic sebbene non si sia quasi vista la sua assenza perché comunque Ciala Mkhitaryan e Varela hanno coperto bene i tre ruoli al centrocampo però riuscire a far rifiatare uno di questi tre per Brozo comunque se ne hai quattro per tre ruoli è meglio che averne tre per tre ruoli quindi sì e poi c'è un Lautaro che da quando è tornato al mondiale ha portato proprio un atteggiamento nuovo in campo una continuità figlia anche di una consapevolezza nuova secondo me quindi mi auguro che continui su questi ritmi perché ce l'hai a Fanta e come io mi auguro di Lukaku se no Alice mi fustica a prescindere dalla fede dal Fanta Calcio a me c'è un Lautaro è sempre piaciuto come calciatore dal primo anno vabbè a parte che giochi nell'Inter me lo fa risultare un po' meno simpatico soprattutto che contro il Milan si segne sempre però cioè se lo merita è proprio ha la faccia giusta l'atteggiamento giusto di uno che che ci tiene e non è meritata la faccia di capitano dell'Inter sperando non faccia la fine di Cardi però in ogni caso in questo momento lui paradossalmente secondo me se lo merita più di Barella sì anche se è difficile perché in realtà hanno tutti e due quegli atteggiamenti lì che gli fanno prendere quelli che a me piacciono chiamarli i gialli stupidi che sono quelli figli di una protesta però sai però sai il capitano io lo vedo anche a volte come una persona rappresentativa di una squadra cioè vedo molto più rappresentativo Lautaro vuoi per il rolling campo vuoi anche per la la sua popolarità nel mondo rispetto a Barella al momento cioè come i grandi capitani era la Juve di Del Piero l'Inter di Zanetti magari poi c'erano altri che in alcuni momenti si prendeva la copertina però i capisaldi della squadra erano loro Milano Maldini per 25 anni e io adesso vedo Lautaro come il punto di riferimento dell'Inter certo beh comunque parliamo di due giocatori cioè Barella entrambi campioni d'Italia due anni fa Barella campione d'Europa in carica Lautaro campione del Sud America e del mondo in carica e che comunque tutti dicono eh sì però ha fatto panchine in mondiali per carità aveva davanti un Julian Alvarez che ha non dico aver performato perché comunque un giocatore di una qualità elevatissima però appunto cioè nel senso non a caso l'Argentina vinto il mondiale mettiamola cioè rigiriamo la frittata l'Argentina può permettere di tenere Lautaro Martini esatto esatto e soprattutto l'Autaro non è l'Autaro non è titolare neanche nell'Argentina l'Argentina ha come riserva Lautaro Martini si fa capire la qualità anche di Julian Alvarez perché Julian Alvarez è un fenomeno esatto perché adesso noi lo stiamo vedendo poco perché c'è c'è un altro fenomeno c'è letteralmente l'unico altro attaccante che potrebbe credo che davvero sarebbe titolare in qualsiasi quadro escluso magari il PSG e il City esatto perché c'hanno siccome sarebbe titolare anche davanti a Levandos al momento la dico così bella bella chiamata soprattutto nel Barcellona ci sta bene un Julian Alvarez però poi alla fine Levandos i suoi gol li fa la sua riqualità indiscutibile sembra di dubbio però per dire c'è anche Lautaro del Mondiale è un Lautaro che in finale ha deciso con l'ultimo gol iniziata da lui dal suo tiro dalla deviazione del suo tiro è arrivato il gol di Messi del 3-2 ha segnato un rigore decisivo contro la Randa ha segnato un rigore decisivo in finale e sono tante piccole cose che però devi avere la testa giusta non è stato non ha fatto il Mondiale che magari qualcuno si aspettava perché partiva titolare cioè è la prima deluso è comunque dopo Messi il miglior marcatore delle rascalonie dell'Argentina però comunque è stato il protagonista cioè se l'Argentina ha vinto il Mondiale è anche grazie a lui esatto e si sta vedendo adesso e ha portato la sua leadership e la sua mentalità e la sua personalità in campo a differenza di un altro Giovincello credo siano quasi coetane ma forse ho qualche anno in più in meno Zagnolo il direttore sportivo della Roma Giacopinto per chi non lo sapesse ha rilasciato questa dichiarazione velenosa su Zagnolo che è passato al Galatasaray e non gliela mandate a dire quello si può dire ha detto recupero le parole eccolo qua se uno si sente molto bravo da dover guadagnare X per dire ma poi gli unici club che fanno un'offerta concreta sono Bornoff e Galatasaray magari bisogna pensare che oltre Tiago Pinto a essere scarso c'è anche qualcosa che non va boom drop mic esatto perché tra l'altro drop mic ma non so quanto saremo però va a farlo questo potrebbe dirci molto e dice tante verità è anche vero che poi magari si può dire ma sono arrivate altre offerte è arrivata l'offerta del Milan eravate voi che non volevate darlo al Milan è anche vero che parliamo era il Milan che non voleva dare i soldi all'Inter l'Inter che aveva già guadagnato un milione e mezzo dal trasferimento di Zagnolo al Galatasaray e attraverso i bonus potrebbe arrivare a guadagnare fino a 4 di milioni alla fine della fiera visto quello che è successo fra Naingolani e Zagnolo secondo me ci hanno perso entrambe nel senso non ce n'è una che ne abbia vinto in primiera particolare su Zagnolo allora secondo me è una genialata del Galatasaray cioè il Galatasaray ha fatto un colpo clamoroso perché se va male ha preso uno del 99 a 20 milioni che nel giro di un paio d'anni anche se lo rivendi a 5 rischi di fare più svalienza pulito pulito preciso e poi il Galatasaray c'è una bella squadra e poi il Galatasaray se dovesse andare bene comunque gli dà la vetrina di giocare in Champions il Galatasaray gioca in Europa League adesso se non erro si mi sa che era in Champions ma è credo credo proprio di si adesso correggimi se sbaglio sto guardando perché molte come potrete immaginare tra l'altro i nostri pensieri vanno logicamente a quanto successo in Turchia in questi giorni con un terremoto dalle dimensioni catastrofiche e il campionato di calcio in questo momento è sospeso ci sono molte partite che sono state rinviate però non so quindi a questo punto quando e se si giocheranno le partite di Europa League stai controllando te? sì perché qua io sto vedendo so che il campionato turco in questo momento è sospeso infatti non so Daniele adesso è andato là ma non si starà non si starà giocando però no non credo sia in non credo sia in Europa League credo potrebbe essere arrivata quarta nel girone di Champions però mi sta venendo il dubbio adesso non voglio dilungarmi troppo no però comunque cioè a prescindere dai piazzamenti così è una squadra che lotta per vincere il campionato turco che comunque non è un campionato sì magari è un livello inferiore il Gialetazera è una bella squadra cioè perlomeno dalla tre quarti in su abbiamo Mertensi Cardi adesso anche Zagnolo c'è anche Torreira al centrocampo c'è tanti ex SREA e poi soprattutto è una squadra che ogni anno fa le competizioni europee non sarà il Real Madrid certo però comunque anche come vetrina per un calciatore che deve rilanciarsi che è stato cacciato malamente dalla Roma o che si è fatto cacciare come sempre lì è difficile capirlo però cioè secondo me ottima mozza del Galatasaray meno per Zagnolo però piuttosto che fare sei mesi fuori rosa che era meglio non ho capito bene la formula con cui è andato mi sa che prestito con diritto ma tipo abbastanza semplice come diritto ok ok va bene dovrebbe essere sì con una clausola sì dovrebbe essere anche una clausola Milan leggo e quindi potrebbe esserci è stato firmato un contratto fino al 2026 scusatemi se guardo in dire 2027 perdonatemi qua c'ho 1000 pop up con la possibilità di rescissione che potrebbe esserci nel caso arrivi una chiamata in serie A quindi sì alla Roma andranno circa 23 milioni di euro di cui 15 di parte fissa la restante in bonus facilmente raggiungibili che è stato un modo furbesco per abbassare la quota da girare poi all'Inter vi sarà percentuale del 15% sulla futura rivendita il calciatore un contratto a 3,5 milioni di stagioni fino al 2027 e la presentazione a clausola recessoria che scenderà nel tempo una specie di via di uscita per tornare in Italia con il Milan sempre sullo sfondo che se vorrà Zagnolo dovrà sborsare 35 milioni di euro una cifra che secondo me se Zagnolo tornerà a essere il giocatore che ci aveva mostrato di essere può valere il prezzo onesto secondo me per un giocatore dalle qualità pre-infortunio indiscutibili post-infortunio più discutibili quindi vedremo cosa succederà poi secondo me non è stato neanche valorizzato per il tipo di gioco che ha la Roma negli ultimi due anni o meglio cioè la Roma anche solo il fatto che il 50% o comunque una grossa percentuale dei suoi gol nascono da palla inattiva significa non dico che Zagnolo si è tagliato fuori ma quasi e anche il gioco molto molto diretto che ha la Roma appoggiarsi a Abramo affidarsi alle iniziativi di Dybala c'è anche lo stesso Pellegrini è un altro che quest'anno sta facendo fatica e non lo so solo perché ce l'ha il fantacalcio la sua sfilza è di 5 e mezzo 6 5 e mezzo però Pellegrini fa fatica la Roma Zagnolo di qua di là il caso Karlshorp così è la Roma è terza certo la Roma è terza perché ha una buona solidità difensiva qualcosa in attacco succede prima o poi perché comunque se basi tutto il tuo gioco sulle palle inattive comunque di gente alta la Roma ne ha però comunque noi guardiamo i gol fatti Napoli 51 Inter 41 la Lazio 37 l'Atalanta 39 il Milan 37 la Roma 28 la Roma ha segnato quasi 10 gol in meno rispetto alle sue dirette concorrenti per un posto in Champions un pochino di più rispetto all'Inter tanti di un pochino di meno rispetto all'Inter tanti di meno rispetto al Napoli però solamente 18 i gol subiti quindi ha subito davvero pochi gol cioè una squadra a cui difficilmente fai gol e che difficilmente ti fa gol però quando quando ti fa gol riesce a non subirlo e quindi vince Murigno direbbe Allegri di Corto Muso questo è Murigno è Murigno prendono e lasciare questo è Murigno e Zaniolo forse in questo progetto tattico c'entrava po' ma si vedeva cioè che per motivi per mille motivi era un po' un pesce secondo me l'abilità di Murigno è quella di lavorare di gruppo per esaltare il singolo quindi tu lavori più di gruppo a livello di solidità però esalti il Di Bala di turno perché avere un Di Bala in più alla Roma sta facendo tutta la differenza del mondo avrebbe fatto ancora più differenza avere un Zaniolo in condizione un Zaniolo in grado di fare la differenza lo Zaniolo che si è visto adesso non era più in grado di fare la differenza perché comunque non c'è mai stata una partita decisa nella giocata di Zaniolo ci sono state tante partite decise da delle giocate di Di Bala questo è innegabile o delle giocate al contrario di Zaniolo tra espulsioni e ammunizioni stupidi esatto quindi no ma si vedeva che in questo periodo cioè negli ultimi mesi soprattutto era proprio un corpo estraneo alla Roma certo ma questa è la dimostrazione cioè che non serve l'individualità per essere lì in alto perché il Napoli ha fatto l'inizio di un stagione in cui vinceva vinceva e vinceva e non c'è Rosimène Rosimène era infortunato inizio stagione la Roma è la stessa cosa Zaniolo fa questo fa quello così la Roma è terza la Roma è terza la Lazio immobile non segna segna poco è stato infortunato la Lazio è lì cioè quando ci si affida all'individualità poi sei facilmente è intuibile come ti posso fermare capito? o hai la grande individualità o hai Messi cioè capito? però anche c'è ad esempio anche la Juve di Ronaldo quando si basava solo su Ronaldo negli ultimi anni ha faticato non ha vinto il campionato ma anche Barcellona quando si basava solo su Messi alla fine puoi fare fino a un certo punto però perché alla fine è uno sport di squadra è la banalità meno banale del mondo secondo me è una cosa che spesso ci si dimentica perché si pensa oddio va via dall'Inter Lukaku cosa si fa va via dal Milan Leao arriva Leao se ne trova un altro i giocatori vanno e vengono le squadre rimane magari meno sorridenti di Leao con il sorriso con il maledetto sorriso ti lascio andare che poi dopo tu hai schiscette da mangiare i lavori da compiere polpo e patate buono il polpo molto sottovalutato e logicamente vi lasciamo anche a Zia Zabette per una special episode Sun Raim Edition Sun Raim Edition Alice non c'è c'è l'altra Alice allora ci facciamo dire la formazione del fantacalcio anzi no vieni qua un pochettino te dobbiamo fare un discorsetto eh allora sì 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 no 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 tu hai capito già vieni qua vieni allora Alice Alice indovina allora aspetta aspetta posso dire Alice hai rotto i coglioni hai rotto i coglioni intanto telecamere sì in questo momento ci servono io non ho ancora detto la formazione tu mi hai già detto prima allora facciamo facciamo così intanto ricordaci te paradossalmente ricordaci te a noi entro quando dobbiamo mettere la formazione lo sai quando si gioca qual è la prima partita domenica si gioca no di domenica no ok non è domenica se non è questa domenica la prossima non è sabato la prossima se non è domenica e non è sabato e non è sabato quando sarà sarà venerdì che è quindi oggi ok quindi mettete la formazione stasera entro stasera entro le di solito la sera a che ora si gioca 8 e 45 quindi stasera prego al microfono stasera entro le 8 e 45 mi raccomando la formazione esatto soprattutto non più a me stessa che agli altri soprattutto a Federico Rana e a me medesima grazie grazie adesso risolviamo tutto a uma uma dobbiamo ancora fare la riparazione è un casino io ragazzi non ho mai avuto così tante difficoltà grazie mille Alice scusaci non ho mai avuto così tante difficoltà che di zero un'asta incredibile vabbè la faremo in chiamata probabilmente settimana prossima o con le buste e ma peccato perché poi questa settimana c'è anche Sanremo e quindi è impossibile organizzarsi con Sanremo Zia e Zabette che ancora non ci sono però vi salutiamo comunque perché poi noi non lasciamo a già andà a già fatica a già fatica o tengo mare fuori tengo mare fuori o mare dentro e tengo mare di guai u mare di guai u mare di guai wow faccio ragazzi e mo budimo grazie mille Sara in regia gentilissima grazie a chi ha seguito la diretta formazione stasera Milan Torino single comincia poi in bocca al lupo in bocca alla balena in bocca in bocca in culo dove vuoi te non sono io a giudicarti grazie a tutti ci rivediamo venerdì prossimo ciao 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 Grazie.